Il giorno si vede, si sente. Dunque, mettiamoci la finestrina di là. Ok, mettiamo questo di qua. Ok, allora, dobbiamo finire un esercizio che abbiamo cominciato a fare l'altra volta. Dunque, avevamo a che fare con questa funzione g di x, che riscrivo. G di x uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito di seno di nx diviso n. Dobbiamo dimostrare che la g appartiene a L2, 0, 2 pi greco. E quindi dimostrare che è una funzione quadrato sommabile. E poi farne un prodotto scalare con quell'altra funzione f di x. Allora, per dimostrare che questa funzione è quadrato sommabile, visto che non ha un'espressione analitica che possiamo direttamente integrare, beh, utilizziamo l'uguaglianza di Parseval. Quindi, innanzitutto, ci scriviamo questa in questa forma. Quindi, questa sarebbe la somma per n che va da 1 all'infinito di e alla i nx. Mi sa che conviene spezzare prima o spezzo dopo? Vabbè, spezzo dopo. E alla meno i n per x diviso 2 i n. Ok? Ora qui mi faccio comparire un radice di 2 pi greco sopra e sotto, per motivi che saranno chiari tra un po'. E a questo punto questa diventa la somma per n che va da 1 all'infinito di radice di 2 pi greco. E alla i nx diviso radice di 2 pi greco. E qui ho un 2 i n. 2 i n. Meno la somma per n che va da 1 all'infinito di radice di 2 pi greco, sempre diviso 2 i n. E poi ho un e alla meno i nx diviso la radice di 2 pi greco. E dovrei, credo, aver messo tutto. Ok. Sì. Fatemi fare soltanto quest'altro passaggino. Quindi questa la scrivo come la somma per n che va da 1 all'infinito di radice di 2 pi greco diviso 2 i n. E alla i nx diviso la radice di 2 pi greco. E qui ci metto più la somma su n che va da meno 1 a meno infinito di radice di 2 pi greco. diviso 2 i n per e alla i nx diviso la radice di 2 pi greco. Dove, cos'è che ho fatto qua? Cos'è che ho combinato? Ho scritto sostanzialmente n, l'ho mandato in meno n, e quindi se prima runnavo da 1 a più infinito, adesso vado da meno 1 a meno infinito, e qui questo diventa i nx, e al denominatore avrei un segno meno che si mangia col segno meno che c'era davanti. Ok. E qui notate che c'è questa struttura in cui ci sono dei coefficienti, che sono questi qua, che moltiplicano le funzioni del settore ortonormale completo delle onde piane che abbiamo individuato l'altra volta. L'altra volta abbiamo detto che se io prendo le unx uguale alla 2 pi greco i nx diviso l, diviso la radice di l, dove l era b meno a, questo qui risulta essere un set ortonormale completo di funzioni da utilizzare nello spazio l quadro a b. Nel caso specifico a uguale a 0 e b uguale a 2 pi greco, e quindi l è uguale a 2 pi greco, e quindi ho esattamente i nx come funzione esponenziale, e poi una radice di 2 pi greco. Quindi effettivamente questo affare qua lo posso scrivere o interpretare come una somma con n appartenente a z, perché n varia da 1 a più infinito e da meno 1 a meno infinito, adesso per n uguale a 0 vediamo che cosa succede, di e alla i nx diviso radice di 2 pi greco per dei coefficienti che posso chiamare d con n, dove i coefficienti d con n sono dati da questa cosa qua, è 0, se n è uguale a 0, perché come vedete nelle due somme che ho scritto prima non compare lo 0, va da 1 a più infinito e da meno 1 a meno infinito, quindi per n uguale a 0 devo avere 0, ed è uguale invece a questi coefficienti che sono gli stessi, cioè radice di 2 pi greco 2in, se n appartiene a z privato del punto 0. a questo punto io so che la norma di g al quadrato da Parseval è uguale alla somma per n appartenente a z di d con n modulo quadro, ovvero questa sarebbe la somma, adesso lo scrivo e lo commento tra un po', per n che va da 1 a più infinito, d sarebbe 2 pi greco diviso 4n quadro moltiplicato per 2, perché? Perché quando io faccio il modulo quadro di queste quantità, ovviamente il fatto che n sia positivo o negativo non cambia, e quindi avrei sempre comunque, avrei la stessa serie, da 1 a più infinito e da meno 1 a meno infinito, quindi per quello ci metto un fattore 2 davanti. E poi ho fatto il modulo quadro, quindi ho un 2 pi greco diviso 4, e il modulo di che fa 1, quindi a questo punto questa deve essere uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito di pi greco diviso n quadro, che sappiamo essere convergente, perché è proporzionale alla serie che abbiamo fatto l'altra volta, che è il problema di Basilea. Allora, g effettivamente appartiene a l2, 0, 2 pi greco. Avendo questa espressione di g, avevamo un'analoga espressione di e, f, potremmo calcolare anche il prodotto scalare utilizzando l'uguaglianza di Parseval generalizzata, quindi fg, che appunto non saprei calcolare perché non ho, come integrale, perché non ho un'espressione analitica, posso però calcolarla utilizzando Parseval generalizzato, in questo modo, come la somma per n appartenente a z, dei coefficienti c con n che abbiamo individuato l'altra volta, d con n, uguali alla somma per n appartenente a z meno 0, perché d con n per n uguale a 0 fa 0, dei coefficienti che avevamo l'altra volta, che erano radice di 2 pi greco per e alla meno valore assoluto n, che sarebbero i di c con n asterisco, e poi ho questi nuovi coefficienti di con n che sono radice di 2 pi greco 2i n, ok? E questa qui è uguale a 0, perché? Perché ho una e alla meno valore assoluto di n che dà sempre lo stesso contributo sui positivi e sui negativi, mentre ho un 1 su n qui che darà numeri positivi e numeri negativi, a seconda che n sia positivo o negativo, no? Cioè, ovvero, avrei dei termini, questo per essere più chiaro, questo sarebbe un 2 pi greco diviso 2, quindi sarebbe un pi greco diviso i, che posso raccogliere, e però avrei dei termini del tipo e alla meno 1 diviso 1 più e alla meno 1 diviso meno 1, questo per caso n uguale a 1, n uguale a meno 1, poi avrei più e alla meno 2 diviso 2 più e alla meno 2 diviso meno 2, no? Questo nel caso n uguale a 2, n uguale a meno 2, quindi questi si cancellano a coppie, e quindi questo fa 0. Quindi effettivamente F e G sono ortogonali, cosa che non era chiaramente visibile prendendo, diciamo, la loro espressione in termini di serie, di Fourier. Facciamo ancora un altro esercizio di questo tipo, e facciamo questo, un po' più calcoloso, dunque supponiamo di avere la funzione, almeno che mi sistemo un po' questa cosa qua, ok, supponiamo di avere questa funzione qua, f di x uguale a e alla a per x con a appartenente ad r, supponiamo di essere nell'intervallo meno pi greco pi greco, quindi siamo nello spazio di Hilbert meno l2 meno pi greco pi greco, e quello che si dice, si chiede di sviluppare in serie di Fourier, in particolare sulla base delle funzioni trigonometriche, o sul set meglio, chiamiamolo set, delle funzioni trigonometriche, e calcolare poi la somma di questa serie, quindi la somma per n che va da 0 a più infinito, di meno 1 alla n diviso n quadro più 1, sempre con la tecnica delle serie di Fourier, in questo caso non ci sarà neanche bisogno di passare attraverso Parseval, vabbè, qua il calcolo si fa in modo algoritmico, quindi cominciamo dal alfa 0, alfa 0 era 1 diviso la radice di 2L, scusate, era 1 diviso 2L, che poi adesso lo, infatti qua non c'è bisogno di fare Parseval, quindi posso utilizzare direttamente quello, quindi questo era 1 diviso 2L, quindi nel caso specifico è 1 diviso 2P greco, poi ho l'integrale tra meno P greco e P greco, di e alla a per x di x, ok, questo qui sarebbe uguale a 1 diviso 2P greco a, e poi ho un e alla a pi greco, meno e alla meno a pi greco, moltiplico e divido per 2, e quindi questo sarebbe un pi greco a, seno iperbolico di pi greco a, diviso pi greco a, e vabbè, e questo è fatto, poi ho alfa con n, alfa con n erano le proiezioni sui coseni, quindi questo è l'integrale, 1 su pi greco integrale tra meno pi greco e pi greco, di e alla a per x per il coseno di nx in dx, qui avrei il coseno di n pi greco x diviso L, ma L è uguale a pi greco, e quindi ho il coseno di nx, questo è uguale a 1 diviso 2pi greco, integrale tra meno pi greco e pi greco, di e alla x, che moltiplica a più i per n, più e alla x, che moltiplica a meno i n, a in dx, e dovrebbe essere giusto così, fatemi controllare, 1 su 2pi greco, yes, ok, good, quindi questo sarebbe 1 diviso 2pi greco, vabbè, questo devo farlo 1 a 1, quindi ho un coefficiente a più i n, poi avrei un e alla x a più i n calcolato in pi greco, meno lo stesso calcolato in meno pi greco, quindi ho un 2 volte seno iperbolico di nuovo, quindi ho un 2 volte seno iperbolico di pi greco, che moltiplica a più i n, e analogamente qui avrò un 1 diviso a meno i per n, e qui ho il seno iperbolico di pi greco a meno i per n. Ok, questo dovrebbe essere corretto. Va bene, adesso mi ricordo una cosa, vabbè, il 2 e il 2 si può semplificare volendo, mi ricordo che il seno iperbolico di i per x deve essere i volte il seno di x, questo perché il seno iperbolico di i x sarebbe e alla x meno e alla meno i x diviso 2, quindi moltiplico per i e divido per i, e quindi si funziona, è i seno di x. è che il coseno iperbolico di i per x è uguale al coseno di x, quindi qui posso applicare questa identità, questo 1 su pi greco, poi avrei un seno iperbolico di pi greco a, che lascio così, quindi applico la regola della somma degli angoli, il seno iperbolico di somma di angoli, quindi questo è seno di pi greco a, coseno di sarebbe pi greco i n, ovvero coseno di pi greco n, più avrei il termine che sarebbe il coseno di pi greco a per il seno di i n pi greco, ma il seno di i n pi greco è uguale a i seno di n pi greco, che fa 0, quindi mi rimane solo questo, questo lo scrivo, perché il seno di iperbolico di n pi greco i è uguale a 0, essendo questo il i volte il seno di n pi greco, e questo fa 0, quindi lì mi sopravvive un seno di iperbolico di pi greco a, coseno di pi greco n, perché coseno di i x uguale a coseno di x diviso a più i n, e analogamente dall'altro lato, cioè sull'altro termine, è 1 diviso a meno i n, e qui viene la stessa cosa per parità del coseno, quindi questo è seno di pi greco a coseno di n pi greco, e questo è quanto, uguale ancora, vabbè, qui devo fare dei conticini, vabbè, innanzitutto posso raccogliere un seno di pi greco a e un coseno di pi greco n, quindi viene seno iperbolico di pi greco a per il coseno di pi greco n, che fa meno 1 alla n, poi ho un 1 su pi greco, poi ho un, questo sarebbe a quadro più n quadro, poi ho un a più i per n, più a meno i per n, quindi i n, i n se ne va e rimane un 2a, quindi dovrebbe essere un 2a diviso pi greco per a quadro più n quadro per il seno iperbolico di pi greco a per meno 1 alla n, vediamo se è vero, quindi questo è un 2a che ce l'ho, seno di pi greco, seno pi greco, ok, vabbè, poi mi faccio pazientemente anche l'altro termine, questo lo buttiamo, quindi devo calcolare adesso le beta con n uguale sempre a 1 diviso pi greco, e devo cambiare foglio, quindi le beta con n è uguale a 1 diviso pi greco integrale tra meno pi greco e pi greco, di e alla ax seno di nx in dx, vabbè, funziona tutto esattamente come prima, quindi è 1 diviso 2pi greco i volte, questa volta perché c'è un seno di mezzo, poi ho l'integrale tra meno pi greco e pi greco di e alla x per a più i n, meno l'integrale tra meno pi greco e pi greco di e alla x a meno i per n, vediamo se ho messo tutto, e alla x a meno i n, 2pi greco i, vabbè, adesso, vabbè, questo funziona esattamente nello stesso modo di prima, e quindi arrivo a dire che, vabbè, questo è 1 diviso 2pi greco i, poi avrei qui un seno iperbolico, seno iperbolico di pi greco a, come prima, per il coseno di n pi greco, questo per 2, quindi 2 si mangia, diviso a i n, quindi questo è 1 su pi greco i, seno iperbolico, ok, poi c'è la differenza che c'è il meno qua, e qui ho un seno iperbolico di a pi greco per il coseno di n pi greco, diviso a meno i per n, e qui c'era un 2 che si mangia col 2, ok, vabbè, quindi questo viene 1 diviso pi greco i, poi abbiamo il termine a quadro n quadro, poi abbiamo il seno iperbolico di pi greco a, per meno 1 alla n, che è il coseno di n pi greco, e poi avrei un a meno i n, meno a meno i n, ovvero meno 2 i n, quindi meno 2 i per n, ok, quindi chiaramente la i se ne va, e mi rimane un segno meno, quindi diciamo raccogliendo tutto, adesso ho calcolato anche il beta con n, la f di x è uguale ad alfa 0, quindi sarebbe il seno iperbolico di pi greco a, diviso pi greco a, più la somma per n che va da 1 a più infinito, qui avrei alfa con n coseno di n pi greco, ovvero 2a seno iperbolico di pi greco a, diviso pi greco per a quadro più n quadro, per meno 1 alla n coseno di n x, ok, poi avrei un meno 2n, diviso pi greco a quadro più n quadro, poi ho il seno iperbolico di nuovo di pi greco a, ho il meno 1 alla n, e poi ho il seno di n x, ok, questa è tutta nella serie, vediamo se ho messo tutto, seno di n x e di un coseno, ok, quindi tutto questo oggetto deve essere uguale ad f di x, ovvero e alla a per x, e lo sviluppo in serie sul set trigonometrico dell'esponenziale, nell'intervallo meno pi greco pi greco, ok, dove vi ricordo che la convergenza di questa serie di funzioni, alla funzione e alla x, è da intendersi sempre come una convergenza in norma, l2. Adesso se voglio calcolare la somma di quella serie, che si era detta all'inizio, pongo a uguale a 1, perché avevo nel denominatore n quadro più 1, e pongo x uguale a 0. Se faccio questa cosa, qui se x uguale a 0, ottengo che 1 deve essere uguale al seno di, seno diperbolico di pi greco, diviso pi greco, più la somma per n che va da 1 a più infinito, di 2a, ma a uguale a 1, quindi avrei un 2 diviso pi greco, poi ho un 1 più n quadro, poi ho un meno 1 alla n, x uguale a 0, quindi il coseno non contribuisce, ed ho un seno iperbolico di pi greco, seno iperbolico di pi greco, e direi che ho messo tutto, fatemi controllare se è vero, 2 sul pi greco, seno iperbolico di pi greco, meno 1 alla n, 1 più n quadro, ok, va bene. Da qui, cos'è che ricavo? Ricavo che 1 meno il seno iperbolico di pi greco, diviso pi greco, è uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito, di meno 1 alla n diviso 1 più n quadro, che moltiplica questo coefficiente che è 2 diviso pi greco, seno iperbolico di pi greco. Quindi a sto punto cosa mi conviene fare? Da qui, visto che io voglio isolare la serie, ho che 1 meno il seno iperbolico di pi greco diviso pi greco, moltiplicato per pi greco diviso 2 seno iperbolico di pi greco, deve essere uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito, di meno 1 alla n diviso 1 più n quadro. Vabbè, a questo punto che faccio somma a sinistra e a destra, 1 più 1 meno seno iperbolico di pi greco diviso pi greco, per pi greco diviso 2 seno iperbolico di pi greco, deve essere uguale alla somma per n che va da 0, questa volta a più infinito, di meno 1 alla n diviso 1 più n quadro, perché avendo sommato 1, quello corrisponde proprio, l'1 corrisponde proprio al primo termine di quella serie, che per n che va da 0 a più infinito. Quindi, vabbè, adesso devo solo elaborare questo qua, e alla fine ottengo che la serie somma per n che va da 0 a più infinito, di meno 1 alla n diviso 1 più n quadro, è uguale a questo oggetto qua, sarebbe un mezzo per 1 più pi greco seno iperbolico di pi greco. Ok, fine. direi che c'è tutto. Ok. Quindi vabbè, vedete che in questo caso non abbiamo utilizzato parseval, abbiamo semplicemente utilizzato la serie sul set trigonometrico, lo sviluppo sul set trigonometrico di quella funzione esponenziale, e abbiamo calcolato la serie di funzioni in un punto specifico. Ok. Adesso chiudiamo questa parte qui, e cominciamo con un altro argomento. Adesso lo metto qua. Quindi cambiamo pagina. e cominciamo adesso con un altro argomento, che è quello degli operatori negli spazi di Hilbert separabili. ora la dicitura in questo caso spazi di Hilbert separabili è per ricordarci che noi interessano quelli, poi quello che sto per dire sugli operatori in realtà vale anche per degli spazi di Banach, non è necessario di avere una norma indotta da prodotto scalare, non è necessario di avere quindi uno spazio di Hilbert separabile, però a noi interessano quelli, quindi ci concentriamo su quelli, perché poi a un certo punto interverranno queste ipotesi di spazio di Hilbert, quindi di prodotto scalare, e di separabilità, quindi diciamo di esistenza di sette ortonormali completi. Allora, come nel caso finito dimensionale, nel caso finito dimensionale un operatore, qua lo devo scrivere lineare, questo non me lo devo dimenticare, questi sono operatori lineari, come nello spazio finito dimensionale un operatore lineare che cos'è? Un oggetto, un'applicazione da un certo spazio vettoriale ad un altro spazio vettoriale che da ogni vettore dello spazio di partenza associa un altro vettore dello spazio di partenza e del lineare, quindi lineare significa che l'operatore applicato a una combinazione lineare è uguale alla combinazione lineare degli operatori applicati ai singoli vettori. Cioè, per essere più specifico, nel caso nostro, un operatore lineare è un'applicazione da H in H, è inutile che stiamo a dire che andiamo in un altro spazio, concentriamoci sugli operatori definiti su H e che vanno in H stesso, e operatori lineare se, diciamo, presi due generici vettori x e y appartenenti ad H e alfa e beta appartenenti a C, quando io prendo l'operatore e lo applico ad alfa x più beta y, quindi alla combinazione lineare, questo è uguale alfa tx più beta aty. ok? Ora, sulla notazione potrei mettere parentesi, potrei mettere delle notazioni, parentesi tonde, parentesi quadre, e si appesantisce talmente tanto che poi c'è il rischio anche di dimenticarselo. Diciamo che T l'ho definito come operatore e x e y l'ho definito come vettore, quindi quando nella scrittura tx si intende che T è l'operatore e che è applicato al vettore x. Qui invece ho messo la parentesi per ovvi motivi, perché devo applicare T a questo vettore che è alfa x più beta y. ok? Quindi questo deve valere chiaramente per qualsiasi coppia di vettori x, y appartenenti ad h e per dei generici valori alfa e beta appartenenti ai numeri complessi. Ora, qui la combinazione lineare va bene, diciamo, vale per tutti. Arriveremo poi a una certa cosa che riguarda l'applicazione di un operatore a una combinazione lineare infinita di vettori e vedremo che lì le cose non sono banali. Adesso stiamo parlando di combinazioni lineare di un numero finito di vettori. Allora, la prima differenza che c'è tra gli operatori in spazi finito dimensionali e operatori in spazio infinito dimensionali è che mentre nell'operatore finito dimensionale non esiste il concetto di dominio di un operatore, invece qui esiste. Quindi ad ogni operatore in realtà è associato un dominio che chiameremo d che è contenuto in h in generale non è detto che coincida con h ed è un sottospazio vettoriale su cui può agire l'operatore T ovvero a differenza a differenza del caso degli spazi finito dimensionali gli operatori qui non si possono applicare in generale a tutti i vettori dello spazio di Hilbert quindi per dirla così a differenza del caso finito dimensionale gli operatori non possono agire in generale su tutti i vettori dello spazio h quindi è insita nella definizione di un operatore il suo dominio di definizione ovvero il sottospazio vettoriale di h sui cui vettori l'operatore può agire beh diciamo per fare un esempio di questa cosa supponiamo di essere nello spazio di Hilbert separabile quelli che ci interessano cambio pagina l quadro a b e di considerare questo operatore differenziale l'operatore derivata prima quindi sia t l'operatore derivata rispetto di x ora chiaramente il dominio di questo operatore deve essere fatto dalle funzioni che siano derivabili quindi diciamo t può essere applicato alle funzioni derivabili in a b e tali che t applicato ad f appartiene ancora a l quadro a b quindi io devo essere sicuro che innanzitutto la funzione sia derivabile che il risultato la funzione che ottengo come derivata sia ancora una funzione quadrato sommabile altrimenti non posso definire un operatore che mi mappa delle funzioni quadrato sommabili in funzioni che non siano quadrato sommabili quindi ad esempio non posso applicare a t non posso applicare a una funzione tipo gradino quindi che ha una discontinuità ad esempio la funzione gradino questa così che abbiamo pure sviluppato in serie no? perché nel punto x uguale a 0 lì diciamo quella è discontinua la derivata sarebbe infinita se volete ok? chiaramente se non è continua non è neanche derivabile quindi non so come far agire l'operatore in quel punto ma anche una funzione del tipo f di x uguale a radice di x da problemi quindi supponiamo di essere ad esempio qui sto facendo degli esempi in l quadro 0 b prendiamo la funzione f di x uguale a radice di x questa f di x appartiene ad l quadro 0 b perché? perché la norma di f al quadrato sarebbe l'integrale tra 0 e b di 1 su dunque vediamo un attimino radice di x scusate questa è radice di x quindi sarebbe x sarebbe x in dx che sicuramente è minore di più infinito quindi effettivamente questa è una funzione quadrato sommabile in l quadro diciamo in 0 b quindi appartiene ad l quadro 0 b perché la norma sarebbe proprio l'integrale tra 0 e b di x in dx che chiaramente è finito ma se io vado a calcolare la derivata prima la f primo di x questo è 1 diviso la radice di 2x e se io vado a calcolare poi la norma di f primo al quadrato questa sarebbe l'integrale tra 0 e b di 1 diviso 4 x in dx e questo non converge questo integrale no? perché in x uguale a 0 ho una singolarità che insomma mi fa esplodere quell'integrale quindi di fatto la radice di x non appartiene al dominio dell'operatore derivata sì diciamo che in realtà ci sarebbe quindi mi è stato chiesto se quest'operatore richiede funzioni c1 diciamo che quella è chiaramente la cosa migliore in realtà si potrebbe stendere a delle funzioni che non sono c1 ma che hanno delle restrizioni meno importanti di essere c1 ma per noi di fatto lo applicheremo alle funzioni c1 ok? credo che si chiamino funzioni assolutamente integrabili quelle alle quali si può applicare a questo operatore non volendo restringere le funzioni c1 però per noi noi ci limiteremo al caso c1 ok? quindi quindi bisogna questo diciamo ovviamente l'operatore derivata è un operatore lineare perché agisce secondo la diciamo obbedisce alla regola di linearità però come vedete è un esempio di un operatore che non può essere applicato tutte le funzioni quadrato sommabili in un certo intervallo ma bisogna restringere il suo dominio di definizione a un sottospazio dello spazio di Hilbert una cosa interessante che già che si può notare a questo livello è la seguente cambio pagina che io so ad esempio che lo spazio di Hilbert può essere raggiunto da tutte le funzioni attraverso diciamo tutti tutti i vettori di uno spazio l quadro a b per esempio supponiamo di essere l quadro a b e io so che tutti i vettori che poi sono delle funzioni in questo caso di l quadro a b ad esempio possono essere scritte come serie di furie utilizzando che cosa i set ortonormali completi che abbiamo visto finora quali abbiamo visto il set delle funzioni trigonometriche poi abbiamo visto il set delle onde piane poi abbiamo visto anche se l'abbiamo solo diciamo visto come si costruisce il set dei polinomi di Legendre questi qua questi set sono set ortonormali completi e sono tutti fatti da funzioni che come minimo sono c1 in realtà quelle sono di classe c1 infinito perché sono infinitamente derivabili queste funzioni di classe c1 infinito quindi chiaramente a queste funzioni io posso applicare l'operatore derivata a queste funzioni o meglio diciamola così queste funzioni appartengono al dominio di dell'operatore derivata ma lo stesso ma nello stesso tempo permettono attraverso le serie di furie di scrivere o di raggiungere se volete tra virgolette funzioni come la funzione gradino che che invece non appartengono a d perché ovviamente io con questo set ortonormale completo posso generare tutti gli elementi dello spazio di Hilbert e loro le stesse funzioni sono appartenenti al dominio ma posso costruire delle serie di queste funzioni che mi vanno a bucare il dominio di definizione dell'operatore questo significa che in generale l'operatore non commuta con le serie ok t non commuta in generale con le serie perché io posso applicare t ai vettori di un set ortonormale completo con tranquillità ma non è detto che io poi lo possa applicare alla serie che ho ottenuto attraverso una decomposizione sul set ortonormale completo questa è una particolarità degli spazi infinito dimensionali che ovviamente non esisteva negli spazi finito dimensionali perché come ho detto prima un operatore negli spazi finito dimensionali lo posso applicare a tutti quindi a tutti i vettori nello spazio finito dimensionale t può essere applicato a tutti i vettori e inoltre ho la comodità della rappresentazione matriciale di t una volta scelta una base perché io scelgo una base so che con quella base posso generare tutti gli elementi dello spazio vettoriale e il mio vettore ha una rappresentazione matriciale su quella base quindi io prendo questa bella matrice e la applico a tutti gli operatori quindi sapere come t agisce sui vettori della base mi dice poi come t agirà su tutti i vettori dello spazio vettoriale una volta che io conosco le componenti di quei vettori su quella base che è la normale cosa che si fa con le matrici che appunto rappresentano gli operatori e con i vettori colonno vettori riga che rappresentano i vettori qui il fatto di saper di poter applicare t a un set ortonormale completo e quindi sapere come t agisce su un set ortonormale completo non mi garantisce poi che io possa applicare t o che il risultato di t applicato alla serie di furie astratta di un vettore sia poi uguale all'applicazione di t sul vettore stesso quindi t non commuda con la serie in generale questa è una particolarità che c'è negli spazi di Hilbert infinito dimensionali ok vediamo qui c'è un esempio che ho più astratto di quello che ho appena detto facciamo un esempio supponiamo di avere lo spazio di Hilbert L2 quindi lo spazio delle successioni quadrato sommabili sia e con n un set o nc un set ortonormale completo e sia l'operatore t che agisce sui vettori del set ortonormale completo per definizione nel seguente modo quindi t applicato ad e con n mi dà n come numero naturale per il vettore stesso ok quindi supponiamo di aver definito t attraverso l'azione che t ha sui vettori di un set ortonormale completo supponiamo di avere un vettore x appartenente ad h è fatto in questo modo quindi questa sia la somma per n che va da 1 a più infinito dei vettori con n con dei coefficienti di Fourier che siano gli 1 su n ora questi 1 su n cosa sono? sono le proiezioni su e con n del vettore x e io so che la norma al quadrato di x è uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n quadro che effettivamente è minore di più infinito quindi x appartiene ad h ok perché è quadrato sommabile anzi beh si è quadrato sommabile oppure è una successione se volete è quadrato sommabile ok supponiamo adesso di voler applicare t ad x beh quando io applico t ad x avendo definito t sui gli elementi del set ortonormale completo supponiamo di volerlo applicare a vediamo come ho fatto qui definiamo prima questa cosa sia xk la somma per i che va da 1 a k di e con i diviso i quindi che sarebbe se volete la somma parziale ennesima della serie di furie di x quindi questa per definizione appliciamo t a xk e avrei quindi t applicato alla somma per i che va da 1 a k di e con i diviso i il motivo per cui sto facendo una somma parziale cappesima in questo caso è perché t è lineare e io diciamo so per costruzione che lo posso far commutare con le somme finite non so cosa succede quando le somme diventano infinite infatti lo faremo tra un po' ma per una somma finita per una combinazione lineare di finiti termini so che questo lo posso far per linealità lo posso far commutare con una somma finita ok quindi questa è la somma per i che va da 1 a k di t applicato e con i diviso i uguale ancora la somma per i che va da 1 a k quando t agisce su e con i per la regola che ho scritto sopra mi da proprio i e con i i e con i e poi ho un i al denominatore questa i e i se ne vanno e quindi mi diventa la somma per i che va da 1 a k di e con i quindi cos'è che succede succede che mentre xk converge a x secondo la norma perché xk sarebbe proprio la somma parziale k che è associata della serie di Fourier associata ad x quello che trovo è che t xk non converge a un vettore dello spazio di Hilbert ovvero ad un vettore di l2 perché questo txk sarebbe la somma per i che va da 1 a k di e con i quindi che significa prendi i vettori del setto nc e moltiplicali per 1 è chiaro che la somma diciamo se volete la norma di txk al quadrato sarebbe la somma per i che va da 1 a k di 1 ovvero k e questo chiaramente non converge non converge se k tende all'infinito quindi vedete che è delicato il discorso di applicare un operatore lineare ad una serie astratta associata ad un vettore x proprio perché questi operatori appunto hanno nella loro pancia intrinseca la definizione di dominio quindi non possono essere applicati arbitrariamente a tutti i vettori dello spazio stesso ok oltre al dominio dell'operatore un'altra cosa e questo riguardava anche gli spazi vettoriali finito dimensionali è quello dell'immagine di un operatore quindi cambiamo pagina si definisce anche l'immagine dell'operatore t che cos'è l'immagine lo indicheremo con i ed è in generale un sottoinsieme di h e ovviamente non è detto che i coincida con h questo vale anche per gli spazi finito dimensionali non è detto che i sia coincidente con h e infatti supponiamo ad esempio di prendere come prima un vettore anzi prendiamo un operatore t che è su un set ortonormale completo per definizione agisca in questo modo e con n diviso n questa volta e sia y uguale alla somma per j che va da 1 a più infinito di e j diviso j che è come il vettore di x di prima e quindi questo appartiene effettivamente allo spazio a l2 ok adesso un ipotetico vettore x tale che t applicato di x sia uguale ad y dovrebbe essere fatto così dovrebbe essere la somma per i che va da 1 al più infinito di e con i che però non è un vettore appartenente a delle due è diciamo lo stesso discorso di prima fatto al contrario quindi sostanzialmente non esiste non esiste x appartenente a l2 tale che t applicato di x sia uguale ad y ok il che significa che y non appartiene all'immagine dell'operatore t ovvero t non è surgettivo questo non ci scandalizza troppo perché anche nel caso finito dimensionale c'erano degli operatori che non erano surgettivi questo non ci scandalizza troppo la cosa interessante qui è che gli operatori invece hanno un dominio quindi non possono essere applicati in generale a tutti i vettori dello spazio vettoriale ora un passato visto che siamo abbiamo nominato il termine è uscito fuori il termine è surgettivo anche in questo caso trattandosi di operatori lineare un operatore si dice iniettivo quando il ker dell'operatore stesso il nucleo coincide con lo zero dello spazio vettoriale ok dire che è un operatore iniettivo che cosa significa dire che se io prendo due vettori distinti l'immagine di questi vettori sarà distinta no? se non è iniettivo invece io posso avere due operatori due vettori che vengono mappati nello stesso vettore finale quindi dire che è iniettivo significa dire nel caso specifico degli operatori lineari come nel caso finito dimensionale che l'unico elemento appartenente al nucleo dell'operatore è lo zero dello spazio vettoriale ok come come nel caso finito dimensionale poi vedremo più in là che non vale una regolina di somma anche perché qui siamo in infinite dimensioni che riguardava la relazione tra la dimensione del care la dimensione dell'immagine e la dimensione dello spazio vettoriale in questo caso in questo caso qua negli spazi infinito dimensionali non vale più quella regolina di somma che si era fatta nel caso degli spazi infinito dimensionali ok io a questo punto farei una pausa di 5 minuti perché sono le 12 quindi ci risentiamo tra 5 minuti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Allora. 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 Intanto si è scollegato questo. Non so perché. Dunque. Dunque. Si vede quello che scrivo. Ok. Un attimo che c'è una domanda. Dunque. Dici. Tutti i vettori si possono scrivere. Ma non tutte le combinazioni dei vettori del set danno vettori. Eh. Non tutte le combinazioni. Beh. Questo. Questo è vero in generale. A prescindere dagli operatori. Nel senso che se tu prendi un set ortonormale completo. E ci metti dei coefficienti a casaccio. Quello lì in generale non è un vettore. I coefficienti che devi mettere. Sono quelli corrispondenti a una successione quadrato sommabile. Quindi. Tu puoi combinare gli elementi di. Del setto NC con dei coefficienti complessi. Eh. Che siano. Eh. Elementi di una successione appartenente alle due. In quel caso sì. Infatti sono. Isomorfi. Cioè. Gli spazi di Hilbert sono isomorfi a L piccolo due. Non so se ho chiarito la. La domanda. Se la mia risposta è stata. Chiara. Ok. E riguardo invece alla domanda di prima. Controllato. Perché mi. 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 Restrizioni meno forti di funzioni C1. Per chi fosse interessato, questa parte c'è sul libro di Zaffaroni e gli altri. C'è un appendice su questo, però è una sottigliezza che non ci interessa. Allora, adesso andiamo proprio, avendo, diciamo, sottolineato quali sono queste problematiche che abbiamo in presenza di spazi infinito-dimensionali, definiamo quella che si chiama continuità di un operatore. Il concetto di continuità di un operatore. Un attimo che cambio pagina. Stiamo sempre parlando di operatori lineari, spazi di Hilbert separabili, ok? Dunque, supponiamo di avere un operatore T che è definito da un certo dominio D in H e supponiamo, inoltre, che xn e x siano rispettivamente una successione di vettori e un vettore appartenente a D, tale che xn converge ad x secondo la solita nozione di norma, no? Questo significa che per ogni y maggiore di 0 esiste n bar appartenente ad L, tale che per ogni n maggiore di n barra, xn meno x norma e minore di epsilon. Quindi abbiamo una successione di elementi di D, quindi appartenente al dominio, che converge ad x appartenente a se stesso al dominio. Allora, si dice che T è continuo in x. Per questo, mi servono altri fogli. Ok. Ok. dov'è che stiamo? stiamo qua allora t è continuo abbiamo detto t è continuo in x se commuta con il limite ovvero se il limite per n che tende a più infinito di t applicato di x con n è uguale al t applicato al limite per n che tende all'infinito di x con n quindi è un'operazione di commutazione di t con l'operazione di limite ovvero tx perché xn converge ad x questo significa che è un operatore continuo nel punto x ora un operatore è continuo nel suo dominio quando è continuo in tutti i punti del dominio in realtà basta verificare per dire che un operatore è continuo nel suo dominio basta verificare che è continuo in un punto cioè basta che t sia continuo ad esempio nel punto 0 se t è continuo se t è continuo sul punto 0v sul vettore 0v è continuo in tutti i punti del dominio in tutti i vettori se volete in tutti i vettori del dominio perché questo per linearità ovvero se io prendo una successione dire che t è continuo sullo 0 dello spazio vettoriale significa dire che se x con n converge a 0v in norma t applicato a x con n converge a t applicato a 0v che è necessariamente 0v ovvio che per un operatorio lineare l'immagine dello 0 dello spazio vettoriale è sempre 0 ok cosa che stavo dicendo ah sì quindi questo diciamo significa dire che t è continuo sullo 0 dello spazio vettoriale a questo punto se io ho una successione y n che converge ad y posso prendere una successione z con n definita come y n-y questa z con n converge allo 0 dello spazio vettoriale in norma e quindi la t è continua e continuo di nuovo diciamo su 0v1 e continua in y perché se io applico t a z con n avrei che t a z con n uguale a t di 0v e quindi ho la continuità di nuovo ho la continuità in 0v che si traduce nella continuità in y ok questo per linealità quindi quando io dico che un operatore è continuo in un punto dello spazio del suo dominio in realtà questo basta che verifio che è continuo ad esempio sullo 0 e se continuo sullo 0 sarà continuo dappertutto perché posso riscalare tutte le successioni in modo da ritornare sempre al punto 0 e applicare la linealità dell'operatore dunque per esempio abbiamo capito che l'operatore derivata è problematico perché ha un dominio appunto che non coincide con tutte le funzioni dello spazio di Hilbert adesso vediamo anche che d l'operatore derivata non è continuo come si fa a vedere si prende un controesempio quindi si fa così supponiamo di prendere una successione di funzioni f con n di x uguale al seno di n x diviso n e le f con n appartengono a l2 0 pi greco prendiamo 0 pi greco per esempio perché? perché se io prendo l'integrale del sen quadro di nx diviso n quadro in 0 pi greco questo sicuramente è un integrale finito inoltre inoltre le f con n convergono a 0 v in norma perché? perché se io prendo la norma di seno di nx diviso n lasciatemi prendere la norma al quadrata in modo da non avere radici di mezzo questo significa che cosa? fare 1 su n quadro per l'integrale tra 0 e pi greco del seno al quadrato di nx in dx e questo è uguale se uno fa i conti a pi greco mezzi quindi questo sarebbe pi greco mezzi e poi ho un n quadro ulteriormente ok? quindi vedete che nel limite di n che tende a più infinito questo va a 0 quindi questa successione di vettori va a un vettore di norma 0 ovvero converge allo 0 v ok? quindi ho una successione di elementi del dominio perché queste sono funzioni tutte derivabili anzi queste sarebbero di classici infinito poi in particolare sono anche quadrato sommabili quindi sono appartenenti al dominio dell'operatore le f con n convergono a 0 v secondo la solita norma ma cosa succede se io adesso applico l'operatore t alla successione delle funzioni? beh allora innanzitutto ovviamente 0 v appartiene in esso stesso al dominio dell'operatore no? semplicemente la funzione è nulla io posso applicare la derivata e tengo 0 vabbè però cosa succede se io applico la derivata alla successione di funzioni? la derivata questa volta sarà il coseno di nx e se io prendo la norma del coseno di nx non ho cambiato pagina non ho cambiato pagina ok grazie scusate troppo sono ancora abituato e poi venerdì uno arriva un po' stanco allora ricapitoliamo visto che non ho cambiato pagina abbiamo detto che f con n appartengono a delle 2 0 cos'era 0 pi greco le f con n appartengono al dominio dell'operatore t le f con n convergono a 0 v secondo la norma ovviamente 0 v appartiene esso stesso a d perché diciamo lo 0 altrimenti non avrei un sottospazio vettoriale cioè lo 0 è sempre è sempre diciamo l'elemento neutro deve essere sempre presente nei domini che stavo dicendo ah sì adesso se io prendo l'operatore derivata rispetto di x lo applico alla fn di x ottengo un coseno di nx e se io vado a calcolare il coseno di nx in norma al quadrata ottengo di nuovo pi greco 4 mezzi che chiaramente non converge a 0 per n che tende all'infinito quindi come vedete come vedete appunto la derivata di x non commuta con il limite per la successione delle mie f con n di x quindi la derivata l'operatore derivata non è continua ok quindi ho preso una successione che converge a 0 la successione quindi 0 e gli elementi della successione sono elementi del dominio ma se io calcolo t applicato allo 0v ottengo chiaramente 0v ma se applico t invece agli elementi della successione ottengo delle funzioni ottengo delle funzioni coseno di n di x che sono sempre delle funzioni quadrato sommabili ma che non convergono allo 0 dello spazio vettoriale ok quindi se io prendo t e lo applico al limite per n che tende a più infinito delle f con n di x è diverso da prendere il limite per n che tende a più infinito delle t applicato alle f n di x ok questo significa che non è continuo ovvero che l'operazione di limite non commuta ovvero che l'operatore non commuta con l'operazione di limite allora la continuità è una proprietà importante di questi operatori perché se io invece ho un operatore continuo so che di sicuro posso invertire limiti con l'operatore stesso e quindi in particolare posso convertire serie e l'operatore stesso quindi se t è continuo e io posso scrivere x come serie di furie astratta no con traverso un set di vettori onc quello che uno fa è scrivere la xk che è la somma parziale ennesima di a con i e con i dove le a con i sono le proiezioni su e con i di x e se t è continuo quando io prendo t xk io so che t xk converge a t x ok in norma se t è continuo in altri termini quando io prendo t x lo posso di fatto commutare con l'operazione di serie e scrivere che t di x è uguale a t applicato a e con i perché x è il limite della successione delle somme parziali sk e quindi poiché la successione delle somme parziali converge ad x t applicato alla successione delle somme parziali converge a t di x oppure se volete prendete t lo applicato ad x significa che potete commutare serie e operatore t e far agire t direttamente sui vettori del settore ortonormale completo ok come nel caso questo diciamo come succedeva negli spazi finito dimensionali ok però la cosa di per sé non è scontata e guarda caso poi questa invece non è una sottigliezza matematica perché purtroppo tutti gli operatori più interessanti della meccanica quantistica anzi molti operatori interessanti della meccanica quantistica sono operatori che non sono continui e quindi diciamo che è una complicazione matematica che purtroppo in questo caso è necessaria adesso andiamo a definire un'altra qualità degli operatori negli spazi di Hilbert che è la proprietà di limitatezza di un operatore quindi operatore un operato operatore t di dominio di vabbè si dice limitato se per ogni x appartenente al dominio risulta che l'operazione tx norma diviso norma di x è limitata oppure che è la stessa cosa se esiste finito il sup il sup con x appartenente a d di norma di t di x diviso norma di x ok questo sup se esiste finito si diciamo si chiama proprio norma dell'operatore per definizione e lo si indica con il simbolo t norma dell'operatore ok quindi che cos'è un operatore limitato è un operatore che applicato a tutti gli elementi del dominio del suo dominio è tale che tx norma diviso norma di x è limitato ok quindi esiste un sup finito questo sup corrisponde proprio per definizione alla norma dell'operatore stesso ok di nuovo prendiamoci un operatore un esempio di operatori anche in questo caso gli operatori interessanti spesso non sono limitati quindi il solito derivata rispetto ad x non è neanche limitato perché supponiamo di prendere una successione fatta in questo modo fn di x uguale a seno di nx e supponiamo di prendere lo spazio l quadro zero pi greco o ovviamente queste f con n appartengono a l due zero pi greco questo non c'è dubbio le f con n appartengono al dominio dell'operatore perché sono tutte funzioni di classe c infinito sono dei seni però che cos'è che succede che se io prendo l'operatore t e lo applico al seno di nx questo qui che cos'è è ovviamente la derivata rispetto ad x del seno di nx uguale a n coseno di nx quindi se io prendo adesso la norma la norma di t applicato a f con n e divido per la norma dell'f con n questa sarebbe la norma di n coseno di x coseno di nx diviso la norma di seno di nx uguale ancora n per 1 perché la norma del coseno di nx diviso la norma del seno di nx sono uguali se provate a verificarlo si tratta di fare l'integrale tra 0 e pi greco del cos quadro nx di sen quadro nx ok e quelle lì diciamo sono sono uguali beh in realtà sempre pi greco mezzi che abbiamo fatto prima quindi come vedete cos'è che succede succede che t applicato f n in norma diviso norma di f n è uguale ad n e quindi questo non è limitato perché se posso far tendere n all'infinito e quindi quella norma quel rapporto di norme esplode ok quindi significa che d su dx non è limitato perché se io posso costruire delle successioni in questo caso di funzioni tale che poi il risultato diciamo dell'operazione tx in norma diviso norma di x è un numero n che chiaramente non è limitato se faccio esplodere n non ho un sup finito un esempio invece di un operatore limitato ecco lo introduciamo adesso e poi lo vedremo altre volte sempre negli spazi funzionali è questo qua l'operatore posizione che utilizzerete in meccanica quantistica lo indichiamo con x grande supponiamo di essere in l2 a b e l'operatore x grande cosa fa quando agisce su una funzione f di x dove f appartiene l2 a b per definizione la moltiplica per la variabile indipendente f di x questo fa l'operatore di posizione quindi se io è un operatore moltiplicativo si chiama che prende la f di x e la moltiplica per la variabile indipendente x questo si chiama l'operatore posizione allora se a e b sono finiti l'operatore x grande l'operatore posizione è limitato infatti se io prendo beh diciamo x f norma e divido per la norma di f questa sarebbe la norma di x piccolo f norma di f ovvero l'integrale tra a e b di x quadro f x modulo quadro dx sotto radice diviso la radice dell'integrale tra a e b di f di x modulo quadro dx adesso posso maggiorare l'integrando in questo modo prendo il massimo vabbè lo scrivo e poi lo commento quindi questo è minore uguale alla radice del massimo tra a tra valore assoluto di b e valore assoluto di a al quadrato per l'integrale per l'integrale tra a e b di f di x modulo quadro dx diviso la radice dell'integrale tra a e b di f di x modulo quadro dx dove cos'è che sto facendo sto maggiorando quindi lo scrivo qua ho maggiorato la funzione x quadro col suo massimo no? perché la funzione x quadro è una è una parabola a seconda del valore quindi sarà massimizzata tra il valore più grande tra a e b ok? se b è più grande di a necessariamente x quadro sarà minore su tutto a b di b quadro e analogamente se a è maggiore di b in valore assoluto sarà più grande la funzione sarà maggiorata da a quadro no? supponiamo che questa sia questa è la parabola no? supponiamo che questo sia a e questo sia b in questo caso b in valore assoluto l'ho preso più grande di a quindi è chiaramente la funzione in a e b è maggiorata da b quadro ok? vabbè a questo punto il massimo lo posso portare fuori e le norme si semplificano e quindi questo è uguale al massimo tra valore assoluto di b e valore assoluto di a che ovviamente è finito e quindi x f norma diviso norma di f è limitato ok? quindi questo operatore è limitato almeno nel caso in cui a e b siano finiti non è limitato questo lo possiamo già dire non è limitato se a o b o entrambi sono tendenti all'infinito quindi sono infiniti in quel caso non ho non ho un operatore limitato l'operatore derivata e l'operatore posizione sono due operatori molto importanti in meccanica quantistica per quello poi li vedremo più volte sono diciamo i due operatori associati proprio alla misura della posizione di una particella e poi come vedremo anche dell'impulso di una particella allora vale un teoremino che adesso dimostriamo e poi forse finiamo qui per oggi che dice la seguente cosa un operatore è continuo se soltanto se è limitato quindi la nozione di continuità di un operatore equivale alla nozione di limitatezza di un operatore ed è per questo che effettivamente l'operatore derivato abbiamo visto non essere continuo e appunto non è neanche limitato questo teoremino rappresenta un criterio se volete per andare a verificare che un operatore sia continuo perché verificare la continuità di un operatore non è banalissimo perché io dovevo dimostrare che tutte le successioni convergenti a 0 v sono tali per cui il limite e l'operatore stesso commutino mentre verificare la limitatezza è più semplice allora cominciamo a dimostrare l'implicazione da sinistra verso destra quindi si atti continuo e suppongo per assurdo che non sia limitato se non è limitato posso trovare una successione di elementi del dominio quindi xn tale che t applicato ad xn in norma diviso la norma di xn è maggiore di n pensate ad esempio l'esempio che abbiamo fatto prima pensate alle funzioni seno di nx erano e poi alla funzione dell'operatore t che era l'operatore derivata rispetto ad x questa qui se io facevo la norma di t seno di nx diviso norma di seno di nx ottenevo n quindi chiaramente io posso sempre trovare se l'operatore non è limitato una successione di funzioni che mi fa quel giochino lì lì chiaramente basterebbe mettere seno di 2 nx e avrei verificato questa questa ipotesi non questa costruzione l'importante adesso qui diciamo è arbitrario mettere n io potrei mettere anche n quadro potrei mettere n alla quinta qualcosa che esploda per n che tende all'infinito ok il fatto di mettere maggiore di n è del tutto arbitrario potrei mettere anche n mezzi questo vale per qualsiasi successione che diverge all'infinito qualsiasi successione di numeri naturali non limitata ok si prende n per comodità per una comodità che adesso vedremo e questo diciamo vale per ogni n appartenente ad n no quindi se t se non è limitato io posso trovare una successione un esempio che ho fatto prima seno di nx tale che t applicato x con n diviso norma di x con n è maggiore di n per ogni n appartenente ad n adesso sia y n definita in questo modo per definizione sia x n diviso n per la norma di x n allora questa successione converge in norma 0 la y n converge a 0 v secondo la norma dello spazio vettoriale perché quando calcolo la norma di y n che cosa ottengo? ottengo la norma di x con n diviso n e norma di x n questo e questo si semplifica uguale a 1 su n e questo va a 0 quando n tende a più infinito quindi y n converge a 0 v se io però applico t ad y n che cosa succede? t applicato di y n sarebbe t applicato a x n e diviso poi n norma di x n che sono dei numeri e posso portare fuori dal segno di operatore per linealità ma cos'è che succede qui? che se io mi prendo questa equazione io vedo che la norma di t applicato a x n diviso n norma di x n è maggiore di 1 ok? prendendo quella quindi significa che se io prendo la norma di questo oggetto questa è necessariamente maggiore di 1 perché quello che ho qui è esattamente quello che ho scritto sopra ovvero t applicato a y n in norma è un numero maggiore di 1 per ogni n naturale e allora t applicato a y n non converge a 0 v nel limite di n che tende all'infinito ok? mentre y n converge a 0 v quindi significa che l'operatore non è continuo e questo è un assurdo lo scrivo qua quindi io avrei scritto che y n converge a 0 v nel limite di n che tende all'infinito ma t y n non converge a 0 v nel limite di n che tende all'infinito e questo chiaramente significa che t non è continuo ok? ok? ora una cosa che forse non è evidente ma forse sì non lo so che per un operatore lineare vale sempre la cosa che lo 0 v appartiene al dominio dell'operatore t applicato a 0 v è uguale a 0 v questo vale per un operatorio lineale no? perché io potrei scrivere t 0 v lo scrivo come non lo so x meno x questo per linealità è uguale a tx meno tx questo è 0 v e questo è 0 v quindi t applicato a 0 v è sempre 0 v quindi in questo caso specifico cos'è che è successo? che io ho una successione che converge a 0 v di y con n t applicato ad y con n non converge a 0 v ok? il che significa che d'altro canto so che t applicato a 0 v deve essere per forza 0 v ok? quindi t non commuta non commuta col limite allora t non è continuo ma questo è un assurdo è un assurdo perché avevo preso per ipotesi la continuità avevo preso per ipotesi la continuità e sono arrivato a negare la mia ipotesi quindi allora t deve essere limitato ovvero l'aver negato la tesi quindi aver ipotizzato che t non fosse limitato mi ha fatto negare anche l'ipotesi e queste sono le classiche dimostrazioni per assurdo adesso dimostriamo la coimplicazione l'implicazione nell'altro senso che è più facile quindi dimostriamo questa supponiamo che t sia limitato e vogliamo dimostrare che t è continuo allora sia una x con n che converge ad x sempre secondo la norma lo ripeto e supponiamo di costruire t x n meno t x e calcolarne la norma questa norma deve essere uguale a t ovviamente per linearità applicato x n meno x e questo deve essere minore uguale alla norma di t questa è la norma di t che esiste finita per ipotesi moltiplicata per la norma di x n meno x perché questa maggiorazione perché la norma di t che cos'è che era era il sup con x appartenente a d di tx norma diviso x ok questa era la norma di un operatore quindi è chiaro che se io ho l'operatore t applicato un certo vettore quello è minore uguale alla norma dell'operatore per la norma del vettore stesso per definizione per definizione di norma di un operatore quindi adesso che succede che la norma di t è finita per ipotesi mentre questa quantità qua tende a zero quando n tende all'infinito perché per ipotesi ho detto che xn converge ad x in norma allora anche txn converge a tx in norma ok ovvero l'operatore t è continuo cambio pagina ok quindi continuità e limitatezza sono la stessa cosa ed è in generale è più facile verificare che un operatore è limitato rispetto a che verificare che un operatore è continuo vedremo adesso è tardi per farlo vedremo la prossima volta che quando un operatore è continuo ve lo preannuncio se un operatore è continuo di fatto il suo dominio coincide con tutto lo spazio di Hilbert diciamo che è prolungabile prolungabile su tutto h quindi per un operatore continuo in realtà vale quello che valeva per gli operatori lineali in spazi vettoriali infinito dimensionali ovvero il fatto che possano essere applicati a tutti i vettori dello spazio stesso però questo lo vediamo poi la prossima volta quindi direi di chiudere qui buon fine settimana la prossima